un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori da parte di Diego Manetti un ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria in compagnia del sottoscritto di Padre Livio per arrivare a quella che ormai è la conclusione di un lungo percorso che ci ha visto vedere l'itinerario da Fatima a Međugorje titolo del volume edito da PM che trovate cari amici disponibile in tutte le librerie dunque Padre Livio da Fatima a Međugorje un percorso che abbiamo visto più volte dettato dalla Madonna stessa la regina della pace che nel 1991 ha parlato della intenzione di completare a Međugorje quello che aveva cominciato a Fatima un parallelismo dunque suggerito dalla Madonna stessa è verificato attraverso le tematiche comune le richiamo alla preghiera i contenuti dei segreti ma un punto in comune molto particolare quello che vedremo quest'oggi Padre Livio è legato al tema del trionfo del cuore immacolato ecco una promessa che viene data a Fatima in particolare nella seconda parte del segreto che più volte abbiamo citato quello in cui si parla della prospettiva di un secondo conflitto mondiale se gli uomini non accetteranno non accoglieranno l'appello alla conversione che la Madonna è venuta a portare nel 1917 in Portogallo dove si parla della Russia del bisogno di frenare l'espansione degli orrori e degli errori del comunismo però alla fine si preannuncia un tempo di persecuzione alla chiesa ma dice la Madonna finalmente il mio cuore immacolato trionferà il Santo Padre mi consacrerà la Russia che si convertirà e sarà concesso al mondo un periodo di pace ecco a questo trionfo del cuore immacolato abbiamo visto che già la Madonna Medjugorje ha fatto riferimento ti chiedo allora se non sia questo il punto d'arrivo di questo parallelismo di questo percorso da Fatima Medjugorje come dire sia Fatima che Medjugorje guardano avanti guardano al trionfo del cuore immacolato di Maria quindi come intendere questo trionfo come vederlo quale tradunione fra queste due apparizioni intanto cominciamo a mettere a fuoco quali sono le profezie che vengono dal cielo e non quindi quelle di cui abbondono in mass media dove si spaventa la gente tutte profezie che vengono dal cielo sono condizionate dalla più di tutto dal sé se non vi convertirete e comunque quelle che vanno da Fatima Medjugorje sono particolarmente caratterizzate dallo sbocco positivo queste sono le profezie che vengono dal cielo cioè non ti descrivono la catastrofe per angosciarti ti descrivono il passaggio di prova dove tu con l'aiuto di Dio come Daniele nella forza dei leoni o come quando passò attraverso la fornace ardente e i tre diciamo così ebrei che passavano per la fornace ardente offrono sempre uno sbocco quindi questo è mi pare importante però c'è una c'è una caratteristica che è talmente tremenda la prova che la Madonna preannuncia a Fatima di fatto ha pronunciato l'epopea del comunismo con tutte le straci spirituali materiali che ha fatto ha preannunciato la seconda guerra mondiale dandoci però la possibilità di evitarla e poi adesso diciamo così che si è formato questa nuova strana entità che il mondo nuovo senza Dio che comunque è il proseguimento di Satana lasciato dalle catene la Madonna sente il bisogno di sottolineare la vittoria quindi questo proprio è tipico di Fatima il rionfo del cuore immacolato ma è impressionante come la Madonna in tutti i suoi messaggi dati a Meggiugorie specialmente in questi ultimi tempi in cui noi siamo in una crisi che ha di carattere economico spirituale di carattere anche sociale con la guerra che si diffonde e quindi con la luce dalla speranza che si spegne la Madonna sente il bisogno di ripetere quasi in ogni messaggio specialmente quelle rivolte a Miriana che il suo cuore e l'amore trionferà che il suo cuore immacolato trionferà che la chiesa è indistruttibile perché c'è l'eucarestia che lei vincerà perché ci siete qui voi figli miei che mi aiutate cioè man mano che la prova si intensifica la Madonna sente il bisogno di rassicurarci e poi non bisogna dimenticare che la Madonna ha ottenuto secondo quanto ha riferito Vizca proprio in diretta a Radio Maria più di una volta e me l'ha confermato personalmente la Madonna ha assicurato che lei che uno dei tre ragazzi che hanno un'apparizione quotidiana oggi continuerà ad apparire ogni giorno durante tutto il tempo dei 10 segreti e in più durante il tempo dei segreti ma dal quarto al settimo avremo la luce del segno che durerà anche ultimici segreti ma che durante il tempo dei segreti della prova è un conforto una speranza un incoraggiamento straordinario quindi un segno di positività di speranza legato alla responsabilità di una risposta al tempo stesso però i richiami che la regina della pace offre a Meggiugorie legati al suo trionfo lasciano intendere una prospettiva di prova e di combattimento e il 25 settembre 1991 esattamente un mese dopo che ha ricordato come Fatima si compie in Meggiugorie che la regina della pace dice cari figli aiutate il mio cuore immacolato affinché trionfi in un mondo di peccato si sta camminando a passi molto rapidi padre Livio verso quel dissolvimento dell'impero del male il comunismo sovietico che si compie il 25 dicembre 1991 il crollo del comunismo era legato a un compimento di quella promessa già fatta Fatima e per molti questo è stato l'inizio del trionfo del cuore immacolato di Maria che tuttavia lì non si esaurisce in quello stesso 25 dicembre 1991 la Madonna dice infatti cari figli mettete dio nelle vostre famiglie al primo posto affinché gli possa donarvi la pace e proteggervi non solo dalla guerra ma anche in tempo di pace da ogni assalto satanico perciò cari figli decidetevi per dio ecco quindi se il nemico per eccellenza non è il comunismo sovietico o una certa e sola ideologia ma il demonio non stupisce di sentire il primo gennaio del 2001 queste parole cari figli vi ho voluti qui questa sera in modo speciale in modo speciale ora che satana è libero dalle catene io vi invito a consacrarvi al mio cuore e al cuore di mio figlio quindi padre Livio il trionfo del cuore immacolato incomincia con il crollo del comunismo sovietico ma la Madonna ci dice che sarà un trionfo che si realizzerà anzitutto nei nostri cuori opponendoci alla vera radice di male che è il demonio stesso certo cioè il comunismo come è nato come si è proposto e come si è diffuso è nato in una prospettiva di persecuzione alla chiesa e in una prospettiva diciamo così di ateismo e di materialismo e quindi riduceva l'uomo a materia negava l'esistenza di dio l'arma immortale era al di là persimitava la chiesa il paradiso sulla terra sappiamo benissimo però ovviamente non è che la madonna c'è un comunismo non parla di comunismo la madonna parla di russia e quindi la madonna ha manifestato la sua preoccupazione per l'anticristico che ha svolto la russia che si è incarnato nel comunismo ateo e materialistico però poi la madonna già all'inizio del partito di meggiugorje aveva già detto che le situazioni si capovolgevano nel messaggio dell'ottobre del 1981 ha detto che la russia il popolo russo sarà quello che più non era dio e di nuovo la russia cita prima la sua funzione anticristica poi nella sua funzione diciamo così di testimonianza cristiana e poi dice e qui tira fuori l'occidente cioè le cose sono cambiate cioè l'occidente diventa il mondo nuovo senza dio capito adesso la funzione anticristica la svolge l'occidente che vuole costruire una società senza dio ma sempre però con quelle caratteristiche che aveva anche il comunismo materialistico c'è l'uomo un animale non c'è l'anima immortale non ci sono i comandamenti non c'è la moralità non c'è l'eternità questo è il mondo nuovo senza dio la madonna e qui la battaglia cioè per me il tempo dei segreti il tempo della battaglia il tempo della vittoria è in occidente e in particolare in europa per me la madonna passa a meggiugorje ma capisci da fatima meggiugorje e abbraccia l'europa quindi qui è il luogo della battaglia qui è il luogo dove il mondo nuovo senza dio verrà sconfitto e verrà sconfitto così come è crollato il comunismo cioè il tempo di segreti sarà la successione rapida la successione come dire che soltanto soprannaturalmente potrà essere compresa dove dove il piano di satan di distruggere il mondo di trasformare la terra in un grogo dove bruciano tutti comprese le anime quindi trasformare la inferno questo piano di satana verrà sconfitto e il tempo avrà un tempo di pace il mondo avrà un tempo di pace perché perché si convertiranno nel per me nel tempo dei segreti non è che ci sia l'amore detto se col segno si l'ha detto è vero verranno vedere il segno molti ma non si convertiranno ma quelli sono i quelli che hanno tradito che sono induriti ma tutti gli altri non i cristiani che hanno tradito quelli che sono i persecutori ma ignoranti ma che non conoscono l'evangelizzazione forse quello sarà quel sarà il il trionfo del cuore immacolato nel senso che quelli vedranno nella chiesa la luce delle genti da queste tue parole si capisce come la responsabilità di ognuno apre un orizzonte in cui il trionfo del cuore immacolato di maria va compiendosi attraverso una serie di vittorie non si esaurisce certo nel crollo del comunismo e anzitutto è un trionfo che cerca di liberare il cuore dell'uomo dal peccato e dal male è un trionfo che si realizza dunque gradatamente già il 25 agosto del 2000 la madonna ha detto a me giugorio nel mio cuore immacolato sento che ci sono tanti che si sono avvicinati a me e portano in maniera particolare nei loro cuori la vittoria del mio cuore immacolato pregando e convertendosi ma quello dell'affidamento e della consacrazione al suo cuore immacolato è un richiamo che caratterizza i messaggi di me giugorio e fin dagli esordi nell 83 la madonna dice consacratevi al mio cuore immacolato abbandonatevi totalmente a me e io vi proteggerò ancora nell 83 desidero che ogni famiglia si consacri ogni giorno al sacro cuore di gesù e al mio cuore immacolato e ancora nell 88 cari figli vi invito a consacrarvi al mio cuore immacolato personalmente come famiglie e come parrocchie allora ti chiedo padre livio per affrettare il compimento di questo trionfo del cuore immacolato che è graduale perché la madonna invita così ripetutamente a consacrarsi al suo cuore immacolato in che modo questa consacrazione affretta il trionfo del suo cuore immacolato a partire dall'affermazione che ha fatto la madonna che uno di noi è importante nel suo piano e che uno di noi è importante per la sua vittoria cioè il trionfo del cuore immacolato avviene avviene partendo dai singoli cuori è lì che deve avvenire il trionfo del cuore immacolato come quando la madonna dice il mio cuore è sanguina vedendovi come siete nel peccato e nelle abitudini del peccato per cui è la conversione personale perché la conoscenza è sempre un fatto personale è una scelta libera di ognuno di noi nei confronti di dio ogni volta ogni volta che si risponde all'appello della conversione che comunque dopo 35 anni si rinnova continuamente quasi ogni messaggio la madonna è stancabile perché ci sono quelli che sono i convertiti poi ci sono stancati e ci sono a me sopra la radio poi ci sono voltati indietro c'è stato un raffreddamento anche a meggiugorie e c'è bisogno loro lo sentono gli abitanti di un ritorno alle origini no perché perché il trionfo del cuore immacolato avviene attraverso il cammino di conversione che però deve farsi ogni giorno perché il diavolo è sempre pronto la carne debole e allora e allora diciamo il cuore immacolato trionfa la misura in cui noi convertendoci possiamo perseveranti nel cammino di conversione e quindi è un da persona da persona a persona come la sconfitta e da persona a persona è chiaro che la madonna come ha fatto abramo quando aveva dialogato con dio per ottenere che solo me e gomorano fossero colpiti che sia almeno 20 giusti ma la madonna vuole che ci sia almeno un gregge un piccolo gregge la madonna ha usato altre volte la parola sufficiente vuole che ci sia una così un numero sufficiente di cuori che intercedono col suo cuore per ottenere la misericordia per tutti questa intercessione si può esprimere in modo perseverante proprio passando attraverso la consacrazione al cuore immacolato di maria senza la quale non è che si fa un cammino alternativo si è persi la consacrazione al cuore di maria per le parole stesse della madonna appare una tappa necessaria e non opzionale mi riferisco in particolare al messaggio del 2 maggio del 2009 cari figli già da lungo tempo vi do il mio cuore immacolato e vi porgo mio figlio voi mi rifiutate permettete che il peccato vi avvolga sempre di più permettete che vi conquisti e che vi tolga la capacità di discernimento poveri figli miei guardatevi intorno osservate i segni del tempo pensate di poter vivere senza la benedizione di dio non permettete che la tenebra vi avvolga e ancora il 25 gennaio del 2012 cari figli anche oggi vi invito con gioia ad aprire i vostri cuori ad ascoltare la mia chiamata io desidero avvicinarvi di nuovo al mio cuore immacolato dove troverete rifugio e pace insomma questo cuore è necessario per non perdersi nella tenebra e per essere anche protetti proprio dal male guarda io vorrei fare una considerazione molto concreta chi è stato l'artefice del trionfo del cuore immacolato diciamo così anche sul piano storico sul piano ecclesiale è stato san giovanni parlo secondo non c'è dubbio lui è stato lo strumento scelto da maria per far collare il comunismo perché san giovanni parlo secondo con con le sue visite alla polonia dove ha colpito il comunismo nella sua motivazione morale gli ha tolto la motivazione morale che comunque ogni anche le ideologie più perverse hanno devono avere un minimo di motivazione per stare in piedi ma giovanni parlo secondo l'ha svuotato per cui le folle erano con lui questo movimento ha fatto crollare il muro di berlino e poi si è amato in tutti i paesi dell'est ma giovanni parlo secondo chi è che era e la sua vita personale era l'immagine dell'affidamento lui usava una parola che noi a noi forse più vicina come sensibilità che è l'affidamento perché di per sé noi siamo consacrati al cuore di gesù per mezzo del cuore di maria già attraverso il battesimo la consacrazione di cui parla la madonna è un rinnovo di questo di questa di questo dono che noi facciamo di noi stessi a gesù attraverso maria allora siccome giovanni parlo secondo ha sempre visto una mediazione materna lui pur affermando che c'è un solo mediatore fra di due uomini ha rivendicato una mediazione materna fra noi e la madonna e l'ha fatto ogni volta che ha parlato del dono che ha fatto a noi di sua madre gesù sulla croce allora questa mediazione materna per cui la madonna ci ha presi come figli esige da noi che l'accettiamo come madre accettare la madonna come madre che entra nella nostra vita che ci riusciamo a guidare da lei che ci riusciamo a prendere per mano eccetera questo è l'affidamento o la consacrazione intesa in termini proprio di fare entrare maria nella tua vita come madre hai fatto un richiamo molto concreto all'importanza della figura di san giovanni paolo secondo per incominciare non dare il via storicamente a questo trionfo del cuore immacolato di maria col crollo del comunismo mi piace ricordare a questo proposito che si deve a stalin l'insistenza sulla secolarizzazione la scristianizzazione dell'unione sovietica in quello stesso 1989 quando crollava il muro di berlino per il suo grande carisma profetico giovanni paolo secondo riuscì a ricevere in vaticano gorbaciov che concesse la libertà di culto nell'unione sovietica è una cosa che a volte si dimentica prima ancora del crollo giovanni paolo secondo era già riuscito a infilare questo cuneo fondamentale e all'epoca apparentemente imprevedibile perché il comunismo è ateo per definizione non si pensava mai più che riuscisse ad arrivare fin lì la prospettiva è quella di un trionfo che si realizza gradualmente ma dovrà compiersi il 18 marzo del 2007 ancora la madonna che dice desidero che nel mio cuore siano i vostri cuori purificati col digiuno e la preghiera desidero che insieme per mezzo dell'amore i nostri cuori trionfino e nel 2008 il 2 settembre cari figli senza amore siete persi l'amore è unico efficace esso fa miracoli l'amore vi darà l'unione in mio figlio e il trionfo del mio cuore perciò figli miei amate ecco una prospettiva di trionfo che però non ci chiede di essere spettatori passivi o semplicemente di affidarci in modo intimistico ma parla anche di responsabilità ti chiedo in particolare un commento a questo messaggio così articolato e recente del 2 novembre del 2014 cari figli a tutti voi apro il mio cuore pieno d'amore e vi benedico con le mie mani materne apostoli miei potrete aiutarmi aiutarmi significa pregare per coloro che non hanno conosciuto l'amore di mio figlio pregando per loro mostrate a mio figlio che lo amate lo seguite mio figlio mi ha promesso che il male non vincerà mai perché qui ci siete voi anime dei giusti tutto ciò che vi rende miei apostoli e vi conduce al trionfo del mio cuore perciò figli miei purificate i vostri cuori e adorate mio figlio ecco perché questo richiamo all'essere suoi apostoli per aiutare il trionfo del suo cuore immacolato esatto questo ci fa capire che poi alla fine di questa battaglia è proprio soprannaturale cioè è la battaglia veramente fra l'amore e l'odio fra la fede e l'incredulità e la battaglia fra la madonna e il diavolo insomma detto in parole semplici questa è la vera battaglia che c'è nel mondo questa battaglia si fa nei cuori questo è importante capirlo perché è inutile che andiamo come ha detto la madonna una volta vengo venite qui vi ginocchiate avete la colonna in mano siete immersi nel peccato cioè questo è una illusione da parte nostra possiamo dire centomila rosari ma siamo sempre a quel punto insomma allora è quello che poi noi facciamo la madonna fa e noi facciamo anche noi col nostro lavoro e questo cioè rendere consapevole la gente che è nata una grande battaglia scatologica questa battaglia scatologica vede satana che sta costruendo un mondo nuovo senza dio che sta riducendo l'uomo a qualcosa di effimero di terrestre e la vita che è come una fiammella che si accende e si spegne poi non c'è più nulla questa è diciamo la cappa di tenebre di menzogne di morte nella quale siamo sotto tutti noi dobbiamo far capire che qui nel mondo c'è quello che c'è nel mondo adesso inquietudine disordine angoscia eccetera è il frutto di una scelta contro dio cioè non c'è la pace nel mondo contro quello che questo significa perché gli uomini si sono allontanati da dio cosa dobbiamo far capire alla gente c'è nata una grande battaglia scatologica che però si fa nei cuori di ognuno e che la vittoria viene nei cuori di ognuno e noi qui il punto della questione a mio parere noi dobbiamo far capire alla gente e perché la mano ci dobbiamo far capire che ognuno di noi è determinante in questa battaglia la visione in cui uno non persevera devia e cade nel peccato aiuta il demonio la visione in cui uno di noi vince la sua battaglia quotidiana contro il male si pente e si affida alla madonna diventa suo figlio la madonna vince questo è questo è veramente per quello che si chiama apostoli potrebbero chiamarci soldati di questo grande combattimento spirituale però vedi che la madonna ha detto perché ci siete qui voi figli miei non vincerai il male quindi la madonna si aspetta da noi una risposta perché col bene il male si è arginato e poi sconfitto e uno di noi è determinante ti chiedo ancora una cosa le parole non sono mai scelte a caso e l'insistenza del trionfo del cuore immacolato di maria fa forse capire come ci possa essere una conferma di quella scansione delle tappe di questa storia della salvezza che viviamo al presente che più volte abbiamo presentato abbiamo detto che siamo ormai di fronte al tempo dei segreti dopodiché ci viene promesso un tempo di pace che sarà il preambolo per l'ultimo combattimento escatologico tante volte abbiamo detto che se nel tempo dei segreti chi scende in campo contro il dragone la madonna che schiaccerà la testa al serpente nell'ultimo combattimento sarà invece gesù stesso a scendere in campo contro satana e a concludere la storia del mondo con la sua vittoria definitiva e totale questo richiamo al trionfo del cuore immacolato di maria alla vittoria di maria si salda quindi alla prospettiva che sia la regina della pace protagonista di questo tempo di battaglia che è soltanto l'inizio dell'ultimo combattimento si questo dovrà mai perdere di vista due cose che il dal 1830 con l'apparizione della madonna miracolosa così come la conosco la maggioranza delle persone già allora comincia il tempo di maria già allora è preannunciata la sua vittoria ma da allora oggi sono passati quasi due secoli cioè voglio dire noi dobbiamo collocarsi senza fretta in questa grande battaglia che abbraccia anche questo secolo la madonna realizzare la vittoria in questo secolo perché l'ha detto se accetterei di re della pace questo secolo sarà un secolo di prosperità e di pace quindi noi dobbiamo collocarci senza fretta senza presunzione non è che ne siamo noi tu vinci tu hai già vinto se il cuore immacolato triunfa nel tuo cuore ma mi viene da ridere quando eravamo giugone che crollava il muro di berlino e l'unio sovietica crollava telefonavano giù e viste che dicevano e allora è arrivato il triunfo del cuore immacolato di maria i preti eccetera no e viste che dicevano e c'è ancora da aspettare no questo per dire attenzione alle frette è un cammino è un cammino ma noi dobbiamo avere la pazienza e la perseveranza e passare il testimone perché questa battaglia si fa anche dal cielo intercettamento dal cielo e questa è la bellezza tutti quelli che hanno risposto alla chiamata sono già in cielo loro partecipano già di questa grande avanzata dalla madonna è un piano che è l'ultimo è l'ultima sua battaglia e si concluderà con la sua più grande vittoria ma non sarà ancora la fine dell'impero del male concludiamo dunque con una parola di speranza tratta dal messaggio del 2 dicembre del 2014 cari figli tenetelo a mente perché vi dico l'amore trionferà so che molti di voi stanno perdendo la speranza perché vedono attorno a sé sofferenza dolore gelosia invidia ma io sono vostra madre mio figlio mi manda nuovamente affinché vi aiuti perciò non perdete la speranza ma seguitemi perché il trionfo del mio cuore è nel nome di dio un cordiale saluto a tutti da parte di diego manetti e da me padre livio